da Casal 7-2-8 Dorothy Wise, favore del pronostico in questo momento abbastanza nettamente per 2-1-71, l'alternativa è Airy Shop BLG 3 contro 1, gli altri a quote superiori, macchina in accelerazione, si appresta a staccare, lo fa in questo momento e c'è subito lotta ovviamente per il comando dall'esterno Airy Shop BLG in lotta con Drue, che tende a passare, resiste però il rivale, intanto siamo alla prima, primi 200 in 13-8, prosegue il duello fra Airy Shop BLG e Drue con Airy Shop BLG che rientra al rivale, si adegua in seconda posizione più indietro il gruppo, prima frazione da 1-11-6 con i cavalli al passaggio davanti alle tribune, Airy Shop BLG leader, Drue in seconda posizione più indietro il gruppo cappeggiato da Airy che precede Alighieri da Casal per vie esterne, Hermes Rab che cerca di avanzare, poi via via gli altri, cavalli all'ingresso sulla penultima curva, Airy Shop BLG, Drue Alighieri da Casal, Erina, queste le prime posizioni, intanto siamo agli 800 percorsi 1-0-0-9, si va intanto ad affrontare la retta opposta con Airy Shop BLG in vantaggio ai confronti di Drue, poi di dentro lungo la corda ancora Erina, chilometro in 1-16 e mezzo, si va a completare la retta opposta, non progredisce più di tanto, Hermes Rab sposta dalla scia delle leader, intanto Drue che attacca Airy Shop BLG, retta opposta da 1-16-7, siamo sulla curva conclusiva con Airy Shop BLG in vantaggio, Drue che staziona nel suo esterno, avanza intanto anche Erina che sposta in terza corsia, retta ad arrivo, attacca con più decisione Drue nei confronti di Airy Shop BLG che comunque resiste, passa adesso Drue, si trascina a largo Erina, Erina che va su Drue, attacca poi ancora Dorothy Wise, all'esterno Erina che probabilmente passa e va a vincere, ma i due sono comunque molto vicini sul palo. Preparare i cavalli della quinta corsa.